Anche in Abruzzo è partito il conto alla rovescia per l'apertura delle urne per il referendum confermativo sulla riduzione del numero dei deputati e dei senatori. Gli erettori saranno chiamati ad approvare o respingere le modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari approvate in via definitiva dalla Camera nell'ottobre 2019. Con la vittoria del Sisi avrà una riduzione del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento da 630 a 400 seggi alla Camera, da 315 a 200 elettivi al Senato. Se dovessero prevare il no, la riforma sarebbe bocciata. Non è previsto un quorum di partecipanti perché il referendum sia valido. Chi vuole approvare il taglio deve votare sì, chi intende bocciarlo deve scegliere il no. Tornando alle importanti attese elezioni comunali, le sfide più significative sono quelle per numero di elettori che riguardano Chieti ed Avezzano. Chieti con 54 mila abitanti e anche l'unico comune capologo di provincia, poi segue Avezzano con oltre 40 mila residenti. Sono questi gli unici due comuni in cui è previsto un eventuale turno di ballottaggio per il 4 e 5 ottobre. Si tratta di due sfide che alla luce delle polemiche degli ultimi mesi, soprattutto nel centro-destra, risulteranno decisive per i futuri equilibri nella maggioranza in regione Abruzzo. Insomma, due consultazioni che vanno ad assumere una valenza nazionale con riflessi che potrebbero arrivare fino a Roma. A Chieti, dove sindaco di centro-destra uscente Umberto Di Primio, non ricandidato, sono cinque gli aspiranti primi cittadini. L'ex parlamentare ed ex consigliere regionale, ora in forza la Lega, Fabrizio Di Stefano, candidato del centro-destra e sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Udc, Idea Abruzzo, Giustizia Sociale, Popolo della Famiglia, Cambiamo Chieti. C'è poi il medico Bruno Di Orio, alla sua prima esperienza politica, sostenuto da Forza Chieti, che fa riferimento all'assessore regionale di Forza Italia Mauro Febbo e ai consiglieri forzisti uscenti. Era mesi fa autosospeso da Forza Italia, che invece ufficialmente sostiene il candidato Di Stefano. Ad appoggiare Di Orio anche Chieti Viva, lista capitanata dal renziano Alessandro Marzoli, azione democratica, lista composta dai dissidenti del PD e la sua lista. Nel centro-sinistra, che proverà ad espugnare una storica roccaforte del centro-destra, il candidato e il medico e consigliere di minoranza uscente Diego Ferrara, appoggiato dal Partito Democratico e dalle liste Chieti per Chieti, sinistra con Diego Sindaco e Ferrara Sindaco. In corsa anche Paolo De Cesare, imprenditore teatino e presidente del Lance Giovani di Chieti, sostenuto dalle liste Chiama Chieti, La Tiatinità, Chietice e Azione Politica. Della partita sarà anche nel capologo teatino il Movimento 5 Stelle, che non ha voluto apparentarsi con il PD alleato di governo e che schiera Luca Micone, quarantenne impiegato di banca. Ad Avezzano si torna al voto dopo il commissariamento arrivato a seguito della prematura caduta del sindaco di centro-destra Gabriele De Angelis. In corsa nella città marsicana c'è il segretario provinciale della Lega, imprenditore Tiziano Genovesi, appoggiato dalla Lega stessa Fratelli d'Italia Udici e Cambiamo il Futuro. Forza Italia presenta invece la docente, presidente dell'Aciam Anna Maria Taccone, che sarà sostenuta da quattro liste Forza Italia, Siamo Avezzano, Io ci sono per Avezzano e Avezzano domani, a candidarsi con una proposta civica che guarda sia a destra che a sinistra e poi l'ex sindaco di centro-sinistra Gianni Di Pangrazio, alla guida della città di Avezzano dal 2012 al 2017 e fratello dell'ex presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Gianni Di Pangrazio sarà sostenuto da ben otto liste. Anche l'ex consigliere comunale nella maggioranza di Di Pangrazio e poi all'opposizione Mario Babbo, avvocato di professione, tenta la scalata di Palazzo alla guida di ben sei liste, prima delle quali quella del Partito Democratico, oltre alla Renziana Avezzano Viva e a quattro liste civiche. In campo per il centrodestra anche Antonio Del Boccio, ex componente di Fratelli d'Italia, ufficiale della Polizia Provinciale e che corre con liste civiche Civiltà Italiana e Io per Avezzano. Infine in corsa il professore precario Nicola Stornelli, che guiderà la lista Avezzano Bene Comune, ispirata a rifondazione comunista e potere al popolo. Terza città in ordine di importanza in base alla popolazione residente e poi Celano, con 10.000 abitanti e dove a ricandidarsi il sindaco uscente Settimio Santilli di Fratelli d'Italia, a capo della lista civica di centrodestra, una città da mare. Se la dovrà vedere con Gesualdo Ranalletta, imprenditore e alla testa di una coalizione civica per Celano, che sarà appoggiata anche dal centrosinistra e anche da alcuni esponenti dissidenti della Lega. Spostandoci in provincia di Chieti, la sfida più pesante è quella di Guardia Grele. Sarà una corsa a tre tra il primo cittadino in carica Simone Dal Pozzo, avvocato di 46 anni di area centrosinistra, Donatello Di Prinzio, geometra di 52 anni, consigliere comunale di area centrodestra e Gianna Di Crescenzo, con la lista Guardia Grele per tutti. In provincia di Teramo, sfida più attesa quella di Montorio Alvomano, oltre 8.000 abitanti. Si torna al voto dopo la caduta del sindaco di area centrodestra, Enio Facciolini, a candidarsi all'onora Magno, con Montorio Guardavanti, appoggiata dal Partito Democratico, dal Partito Socialista e dei Progressisti. C'è poi la civica di impegno comune dell'ex sindaco Alessandro Di Giambattista e infine la civica un'altra Montorio, dell'assessore della regione Lombardia di Forza Italia, Fabio Altitonante, che ha deciso di essere della partita nel suo parese di origine.